Si chiamano Etna Brothers e si sono conosciuti su internet, si sono piaciuti, si sono incontrati su Facebook, si sono incontrati e hanno deciso di fondare questo trio che si chiama Etna Brothers. Loro hanno tantissimi fan, tant'è che stasera abbiamo una piccola rappresentanza dei fan che li seguono su internet, loro stasera ci canteranno una canzone, che è Napoli, ma prima di cantare c'è questo ragazzo che si chiama Andrea lo sa, che cerca una fidanzata. Andrea lo sa, si chiama? Lo sa. Videochiamatemi. Cerca fidanzata. Cerca una fidanzata, avrai visto che c'è Ketty Ranno e c'è anche Luca Napoli qui in prima finita? No, certamente Ketty mi dice che lo stavamo perdere, minimo minimo, ci vanno 20 kg a cordenza. Vabbè, così lo invitiamo anche a fare una piccola dieta. No, no, a dire tanto che è piccola, a cacciolo, l'impegno serio, ora vediamo come si muovono pure. Quindi i loro nominanti sono Andrea lo sa, Gianluca R, alla mia destra, e alla sinistra Mr. Joe. Loro ci cantano Napoli, quindi Iria, Brothers, eccoli a voi. Vabbè, un bel applauso, i diaboli, i diaboli. Ciao. ma regina voleva mangiare la musica con l'acqua è fuori un bel ma voglio facendo cantare poi non hai capa di ripetere non sai un momento di scelte maestà facendo tutto con novelle con stavolzare le nostre attestate poi non furono volete appicciare due minuti ma faccia assaggiare che la pizza non dai parecchino perciò margherita la vetta chiama Napoliè o raccontala Napoliè ma c'è pure le vie può leggere la storia e sapere la città o racconta natale ma c'è pure le vie può leggere la storia e sapere la città non 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 ma non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.